Musica Io aderisco a potere al popolo per combattere la guerra tra poveri e ricostruire l'unità di classe Perché il momento storico lo richiede, perché sono una giovane ragazza potenzialissima, precaria, vita Perché l'opposizione a questo governo è necessaria e non la delego a nessuno Io aderisco a potere al popolo perché l'ho trovato il primo soggetto politico che mi rappresenta completamente Perché è un'esigenza, è un'esigenza di avere la possibilità di ridare voce a chi non ha avuto voce in politica per tantissimi anni Io aderisco a potere al popolo perché non voglio più che i giovani scappano da questo paese Aderisco perché è l'istinto che mi ha spinto, perché sono stanco di suo cielo grigio Qui non c'è timore nel dire la verità e stiamo immuni a scopi personali pensando alla comunità Io aderisco a potere al popolo perché dal 2007, dalla sinistra al cobaleno, è la prima volta che vedo una cosa seria È nata dal basso, che funziona veramente e che è un'istanza dal basso Io aderisco a potere al popolo perché venderò dottore e voglio che ci sia un accesso libero alle cure sanitarie È un diritto alla salute veramente efficace per i diversi territori Io aderisco a potere al popolo perché finalmente sono rappresentato veramente da una sinistra radicale basata su movimenti del territorio e al quale puoi partecipare attivamente pur essendo un singolo Perché sto facendo una cosa bella e stiamo facendo una cosa bella per tutti Quindi aderite a potere al popolo Grazie a tutti